Il congedo di un vescovo. Così Papa Francesco, nell'Omelia della Messa a Casa Santa Marta, ha sintetizzato la prima lettura tratta dal Libro degli Apostoli, nella quale si racconta il congedo di Paolo dalla chiesa di Efeso che lui stesso aveva fondato. Tutti i pastori, ha sottolineato il pontefice, devono prepararsi a lasciare per andare dove il Signore indica, se si fa fatica e a causa di un legame che non è purificato per la croce di Gesù. Sono tre gli atteggiamenti indicati dal Papa che Paolo assume nel momento di congedarsi, il non tirarsi indietro dinanzi alle prove ma con il cuore in pace perché ha guidato la chiesa senza compromessi. Sapere che, ha evidenziato Francesco, il pastore è in cammino e per questo affidarsi pur non sapendo cosa accadrà ma sempre con il cuore aperto alla voce di Dio, senza appropriarsi del gregge. Terza cosa, avere consapevolezza di non essere il centro della storia ma un servitore. Con questo esempio tanto bello preghiamo per i pastori, per i nostri pastori, per i parroci, per i vescovi, per il Papa. Perché la loro vita sia una vita senza compromessi, una vita in cammino e una vita dove loro non si credano che sono al centro della storia. E così imparino preghiamo per i nostri pastori.